ciao amici softristi e softgunner bentornati su airsoft caesar io che vi parlo sono caesar e oggi facciamo una presentazione mini review di che cosa delle dangler pouch della pitchfork system ragazzi da armi softair abbiamo sempre e solo delle chicchine veramente impressionanti che non ritroveremo da altre parti guardate che spettacolo ok queste omar quelle che ha disponibili come minimetismo me le date tutti così le potete vedere potete controllare che tutto cordura fabric multicam genuine abbiamo veramente delle bellissime tasche in questo caso sono della pitchfork system marca tattica svizzera molto bella poco conosciuta ma che fa materiale veramente interessante e di qualità veramente eccellente come sono stati un po i vlog precedenti e anche le presentazioni dei progetti vi farò vedere che non esiste soltanto la cry precision non esiste soltanto la lbt non esiste soltanto la igori industries ok sono ottime marche ma c'è talmente tanto altro nel panorama mondiale per quanto riguarda il tattica gear che sarebbe stupido non prendere in considerazione dei materiali o delle marche che come qualità si avvicinano a volte anche superano marche più blasonate che però sono state date in concessione a degli eserciti hanno dei contratti di conseguenza si vedono nelle ref pick e la gente le compra poi no pitchfork system come ho detto marca svizzera veramente interessante abbiamo anche delle colorazioni diverse rispetto a quelle che ho portato qui che sono a catalogo ovviamente come per esempio la mimetica svizzera che è una specie di woodland molto molto interessante assomiglia un po anche alla mimetica ciecoslovacca e la vorrò provare presto penso che ne comprerò un set per usarla in game per vedere come si comporta e chissà che magari non metto da parte la partisan ssleto che con cui per adesso è la mimetismo che mi sono trovato meglio bene a parte questa piccola introduzione anche un po a prolissa va bene bando alle ciance adesso andiamo a vedere quello che è la tasca la tasca è molto bella sono stato anche uno dei primi youtuber che ha portato dangler pouch come diciamo recensione all'interno del proprio canale la prima che comprai fu della ferro concept ed era molto bella all'epoca era veramente una cosa nuova oggi come oggi abbiamo dangler e fanny pack pouch in tutti i modi suoni laghi salse e cose possibili di conseguenza ovviamente ogni ditta prova a ritagliarsi un po la sua dangler o la sua fanny pack pouch ma il diciamo il sistema con cui funzionano è tutto il medesimo abbiamo sopra una patella con velcro femmina e maschio che potrà essere attaccata o inserita al di sotto della regolazione dei cammerbond di un qualunque plate carrier oppure al di sotto dei chest rig più moderni come alle strategic spiritus system ok hsg e quant'altro cioè tutte quelle che prevedono al di sotto una striscia di velcro questa dangler in particolare della pitchfork system omar ce le ha in stock in colorazione multicam genuine in colorazione black veramente molto molto bella in colorazione coyote brown come vedete sono tutte uguali ma in colorazioni diverse è un bellissimo ranger green che secondo me è veramente spettacolare ranger green come ho già detto in alcuni video è una delle mie delle mie tinte unite preferite perché sono quelle che meglio secondo me si amalgamano con i mimetismi che noi usiamo in squadra quindi io questa la terrei molto molto in considerazione personalmente poi magari tutti andranno su una più classica multicam prendiamo proprio la multicam per esempio che cosa troviamo troviamo la cosa diciamo migliore è una comunque striscia di pulse molle sopra e sotto laser cut tutto laser cut ma nella parte centrale ricoperta di velcro femmina in modo tale da poter attaccare patch identificative o altri tipi di tasche con attacco velcro molto interessante molto interessante a lato troviamo il tridentino che è il logo della pitchfork system al di sopra della tasca molle che cosa abbiamo? abbiamo una zip credo ykk per accedere al vano primario vano primario abbastanza grande ha scelto la pitchfork di mettere la zip nella parte frontale perché le prime dangler che avevano la zip nella parte superiore era molto difficile quando erano attaccate molto vicino al plate alla fine delle piastre e poi andare a prendere le cose ed aprire la zip quindi di conseguenza hanno sfruttato hanno sfruttato hanno ovviato questo problema delle prime dangler mettendo una tasca anteriore soltanto aprendo troviamo il vano abbastanza come vedete profondo abbiamo nella parte superiore una stiscia di velcro dove possiamo attaccare degli inserti per poter mettere penne materiale per la navigazione e quant'altro veramente eccellente di un po' diverso che non tutte le dangler hanno è una tasca retrostante più nascosta difficile diciamo da raggiungere ma anche difficile da notare in determinate situazioni penso a quegli eventi milsim larp dove ci sono le perquisizioni le cose se vi catturano potrebbe essere una tasca eccellente per nascondere del materiale sensibile o delle comunicazioni o foto scusate non la taglierò comunque o foto c'è ora il covid non lo so o foto magari di vip che dovete catturare o altro potrebbe essere una eccellente è comunque un vano molto grande è quasi speculare a quello anteriore veramente eccellente questa tasca io come stile di tasca secondo me la adoro la trovo modernissima la trovo molto bella la trovo utile perché ci permette magari di interfacciarsi con un cinturone non avendo la rottura di coglioni delle cinghie dei fastex di quello poi mi si scosa poi mi va sotto poi mi tocca le palle e quant'altro e quindi secondo me potrebbe essere una eccellente soluzione è un funny pack tradizionale anche se avevano fatto dei modelli a sgancio rapido come la btg ma secondo me non hanno la fruibilità e la modulabilità di una tasca del genere dove possiamo anche mettere non saprei materiale medico admin cartine materiale per la navigazione semplicemente chiavi smartphone e quant'altro per avere tutto a portata di mano navigatore gps perché no quindi è una tasca è una multipurpose pouch cioè nel senso può fare un po da tutto può fare dall'utility può fare da admin può fare la tasca medica veramente eccellente io queste soluzioni le adoro e le condivido moltissimo bene questa era la panoramica come potete vedere delle tasche che potete trovare da army soft tire di omar sarcoli le dangler ma ha praticamente gran parte del catalogo pitchfork system che è una ditta molto bella ovviamente materiale originale fatto per le law enforcement per gli eserciti il costo è paragonato a quello di quel tipo di materiale lì quindi ovviamente avrà un costo questa dangler che è maggiore rispetto a dangler perché potete trovare replica magari della tmc con o di altre marche con più o meno la stessa modalità però io vi consiglio data la particolarità della tasca in quanto abbiamo questa patella che comunque è articolata non ci sono panel di rigidimento non c'è niente sta soltanto attaccata col becco questa bella striscia di cordura che in questo caso sia un mille denari credo addirittura quindi molto molto resistente magari su altre tasche replica non è altrettanto resistente vi si potrebbe strappare vi si potrebbe scuscire e voi seminate tasche dangler per il poggio o per il bosco aspettandovi che fioriscano come i funghi va bene quindi cercate di prendere in considerazione anche queste marche che vi sto proponendo se questa in particolare la volete ovviamente c'è armies of tire che ve la può fornire e via via arriveranno sul canale tante nuove marche che sono sicuro vi piaceranno un sacco ciao soft gunner come sempre likecate a bestia il video iscrivetevi accendete questa maledetta campanella perché il tubo sta facendo la mignottona e quindi se no non rimanete aggiornati con i video che escano sul mio canale ciao soft gunner alla prossima